Sarà effettuato un sopralluogo nei cantieri aperti alla penisola di Magnisi e all'ex campo feudo di Priolo. È stato deciso il termine della riunione che si è tenuta al comune megarese, convocata su indicazione del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti. In apertura dei lavori il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, ha rappresentato l'allarme sociale che le vicende stanno sollevando nella popolazione. L'ingegnere Morello, funzionario del Libero Consorzio, ha richiamato lo stato del cantiere di Tapsos, che è stato oggetto di un sopralluogo congiunto con i tecnici dell'ARPA il 30 aprile. L'ingegnere Morello inoltre evidenzia l'urgenza di completare gli interventi che sono al momento bloccati nella loro esecuzione. L'ingegnere Gambino, invece rappresentante del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ha sottolineato come il problema vada affrontato sotto un dublice aspetto. Da un lato quello dell'immediato messa in sicurezza dei due cantieri, mentre il completamento delle due iniziative procederà parallelamente, ma con i tempi concessi anche agli aspetti legali e finanziari delle due vicende. I rappresentanti di Invitalia hanno confermato la disponibilità a procedere, nei tempi strettamente necessari, alla predisposizione dei documenti propedeutici alla successiva esecuzione degli interventi prioritari messa in sicurezza e di emergenza dei due cantieri, anche per gli aspetti economici. In merito alla richiesta formulata dal DAR relativa all'acquisizione della documentazione contabile amministrativa, i rappresentanti di Invitalia hanno comunicato che sono in corso di reperimento i relativi a... E che a breve verrà dato formale riscontro. I rappresentanti di Invitalia hanno anche annunciato di voler attivare fin da subito l'esecuzione di un rilievo di dettaglio dello stato dei luoghi dei cantieri, che verranno eseguiti la prossima settimana. La riunione è stata poi aggiornata al 9 ottobre. Ho insistito, dice il sindaco Pippo Gianni, perché tutti i lavori siano eseguiti tempestivamente a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.